ragazzi sto su motorino in questo momento e sto avendo una paura incredibile comunque mi trovo a napoli in questo momento e sto facendo delle consegne sempre per i Redi Napoli ok ora stiamo cominciando a correre ragazzi attesione piano piano discesa stiamo ritornando lungo il mare di Mercellina in questo momento per tornare al Redi Napoli collega cosa tieni da dire? è stata una bella esperienza per ti dietro al motorino cosa ne pensi? avevo paura? madonna mia ragazzi è stato bellissimo è bellissimo me lo puoi portare pure? certo abbiamo in questo momento grande grazie qui siamo a Mercellina lungomare ragazzi bellissimo il tempo è bruttissimo ragazzi abbiamo un camion gigante di tutti noi ok tutto a posto proviamo ad accelerare ottimo collega come sei brava a correre così però non sì ok 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 è Sì, la conosciamo tutti, io la conosco. La leggenda del castello in Ginarra è un uovo d'oro, di cui tempo fa questo uovo d'oro servirebbe proprio per il castello, giusto? Per farlo reggere. Guardate la destinazione, collega. 50 metri. Sì. Ma mi devo più? Eh. Ragazzi, come stiamo? Adio, adio. Adio. Adio.